buon pomeriggio amiche buon pomeriggio amici sono quasi le 17 in quel della tuscia viterbese che vivo sta guardando sopra tetti di coppi vecchi uno pure bucato so che c'è un buco da un lato anche se non è sotto i miei occhi e sta cedendo anche la parte di qua quanto dolore che mi fa vedere le case abbandonate mannaggia mannaggia comunque in queste zone se ne trovano un sacco a costi veramente contenuti anche con dei terreni vi servono dei terreni volete coltivare volete venire a vivere in questo posto che siamo così bene vicino alla toscana così vicini all'umbria così di rimpettai siamo proprio di rimpettai dell'umbria abbiamo onore 20 un bellissimo museo della canapa abbiamo viterbo abbiamo toscania abbiamo civita vecchia abbiamo tanti luoghi belli vetralla monte fiascone bolsena todio orvieto amelia devo ancora andare ad amelia ma ci sono un sacco di paesini che ancora non ho visto abbiamo sipicciano vittorchiano abbiamo bagnaia villalante non mi hanno fatto entrare perché avevo meno che robe assurde nella medesima regione nella medesima provincia in alcuni spazi sì e in altri no in altri ci hanno steso proprio tappeti lo entrate pure anche al chiuso non solo negli spazi aperti altri proprio ci spudano in faccia si vedono anche i cagnolini appese al collo ci siamo poi attrezzate di un nuovo marsupio che non è proprio un marsupio è una borsa fatta bene perché la minuscola non può assumere tutte le posizioni da piegata nel senso che si stanca facilmente eh abbiamo questo problema e inizia a essere grandina senza il collo del femore minù ha fatto anche troppo e non so è da ieri che abbiamo sto problemino mannaggia mannaggia ogni tre per due gliene capita una ma pure io l'ho anche benedetta la mia cana e cosa ci devo fare le vogliamo ancora più bene anche l'oreste passa la nusa un po' e poi dice ok sei qua con me che oreste la riconosce come madre è minù che ha svezzato in qualche modo oreste gli ha insegnato come ci si lava come fanno i genitori no noi dobbiamo insegnare i bambini come ci si lava è una cosa che mi fa troppo ridere eppure quello è oh sì vedo l'umbre c'è poca foschia si sta bene estate sono giornate estive mi piace non sono stata troppo all'aperto perché devo tenere la bimba qua al fresco sarei stata al sole oggi è in terrazza ma non voglio faticare la minù che dopo un po che mi allontano come i bambini quando non stanno bene no che inizia a smiagolare mi ha fatto fare una nottataccia che era sempre tutto un movimento mai ferma dorme con me la mia bimba i suoi cuscini il suo fazzolettino come la minù mia figlia la chiama minù la chiamo camilla lei dorme nascondendo il tartufo il tartufo è quella parte scura del musetto no il naso ecco lei vuole nascondere sempre il tartufo tra qualcosa qualcosa di leggero e quindi ha un fazzoletto io lo butto sul muso e allora però non è stata a certo punto mi è arrivata pure in testa quindi si muove però sognava non lo so la notte inquieta l'oresta ha voluto dormire in casa questa notte ecco ci siamo c'è i suoi orari e alle 4 mi ricordo 4 meno 4 4 comunque alle 4 e un quarto era in cucina ad aprire tutte le finestre fare entrare l'aria fresca ho dormito fino alle 5 e mezza poi che poi tocco il letto riparto subito 5 e mezza mi sono coperta con il trapuntino di cotone non con un copriletto è proprio un trapuntino lenzuola trapuntino un freddo che bello mi piace con l'estate così la sopporto vero è che mi mancano i boschi di rocca di papa e mi mancano sì eravamo sempre fuori sempre in giro tutte le ore perché c'era sempre fresco sotto i castagni qui gli alberi non mancano però il parco è sporco tagliano male poco l'erba non ci sono sedute poi ci sono alberi resinosi quindi disastro è un disastro un disastro mi manca andare in campagna solo che la minou boccheggia boccheggia per il caldo la polvere è bassa fa caldo il terreno raffredda lentamente quindi lei patisce patisce tanto mannacca oh invecchiamo insieme minou mannagina mannaggetta come state allora oggi abbiamo chiacchierato di tante cose già e chissà poi fra qualche tempo l'oggi di adesso sarà un oggi di un altro momento per me per altre persone io non mi riascolto più ovviamente però chissà le persone che ripassano perché ci sono persone che si risoffermano o che transitano prima tramite vecchi video vocali i miei vocaletti lo so non vedete mai ma tanto cosa ve ne fate rivedermi mi sentite io non vi vedo del resto è così alla pari quasi perché manco vi posso ascoltare però quando vi leggo io cerco anche di dare un così un tono alle voci un tono un garbo un carattere non so vi immagino vi immagino sì poi ci sono persone che si palesano più frequentemente ci si affeziona ci si ritrova si aspetta proprio quel commento quello scambio di parole di battute di esperienze anche di segnalazioni di cose da fare da vedere ma ma che belle cose mi piace mi piace eh sì sembra molto social con molte persone riesce insomma con altre no nel senso che non ci si trova e boh non lo so succedono cose strane in rete come del resto fuori senza rete allora continuiamo a chiacchierare come 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 sapete che mi garba di filati di tradizioni di cose che accadono parliamo di tessitura ultimamente abbiamo ricominciato ricominciato a parlare di tessitura o come ho detto porto il telaio al piano di sotto i disastri qua con questo non è neanche un rifacimento del bagno a quest'ora era già fatto devo dire mio padre in cinque giorni ha fatto completamente un bagno ha fatto fare noi qui da una settimana stiamo patendo per il semplice cambio di un piatto doccia e della della ricerca ma individuata subito con un po di buona volontà anche la seconda perdita si poteva individuare perché i segni c'erano ma io guardate non compriendo non compriendo i metodi e quindi ho un disastro ovunque un disastro ovunque un disastro di polvere ovunque posso fare poco ogni giorno pulizie profonde io sono sfinita perché tutti i momenti che mi combinavo un disastro idraulico c'è l'idraulico no il muratore mamma mia ecco io adesso ho visto che mi ha pure rotto una presa mi ha scardinato una prima sradicato una presa nel bagno quella della che corrisponde alla lavatrice e quindi lunedì che torneranno il panno e un buco ci sono anche finita dentro di notte nel buco perché e dirò si ori si ori altro danno ecco c'è da sistemarlo perché non mi fa contatto la spina e lì mi serve mica devo andare in giro con le prolunghe allora e vabbè una roba così che non va bene perché io sto agli arresti già ai comodi di un lavoretto e manca quello quella ieri l'idraulico doveva arrivare alle 17 arrivato alle 19 e 15 vi rendete conto io poi cena prestissimo io d'estate soprattutto a volte capita anche l'inverno magari se ho una zuppa ma insomma no cena sempre presto ho cambiato proprio le mie abitudini insieme al mio piano alimentare e quindi io alle 18 alle 18 c'è no io ieri sera poi ieri ho cucinato tanto quanto cucinato ieri perché mi sono tolta il pensiero ho comprato tanta cicciano di tacchino e mi sono sbagliato ho comprato anche il pollo sono accorta io non mangio il pollo il pollo non mi fa bene e non ci pensavo neanche più non pensavo che un alimento che danno così ma io ho imparato tante cose grazie al dottor mozzi e alla mia nutrizionista che mi ha seguito con tanto amore a distanza che non la ringrazierò mai abbastanza di avermi tirato fuori da una situazione più che critica e difficile visto che vivo anche da sola e camilla non c'erò dietro l'angolo e mamma mia che periodaccio e quindi il pollo scoperto uno dice ma no ma sono i fagioli no il pollo mi provoca delle coliche gassose mi fa stare male io ne ero ghiotta di pollo arrosto ora non lo posso neanche sopportare neanche l'odore cotto dagli altri mangio il tacchino mangio il tacchino ogni tanto carne rossa e mi sono proprio accorta che mi viene a mancare perché inizio a provare una strana debolezza non avevo collegata la carne rossa e invece ora mi do una cadenza regolare più o meno nel mangiare anche la carne rossa di vitella e mangio tanto pesce quello si mangio i legumi i miei quindi cannellini fagioli bianchi in spagna e fagioli corona poco i borlotti perché non mi fanno benissimo mangerei ceci ma non mi fanno benissimo una ligue della farinata e il mio vicino di casa nel giorno peggiore quando mi è successo un disastro ma proprio un disastro che mi sono quasi messa a piangere invece ho preferito urlare e mettere in riga chi mi ha urlato come una pazza la mia pazienza veramente ha un limite poi bisogna prendere a un certo punto tocca proprio prendere prendere proprio come si può dire non voglio dire vabbè comunque il mio vicino mi manda un messaggio che è stato in ligura gli avevo detto guarda sei a genova allora vai lì vai lì vai là assaggiò questo questo e quest'altro solo carne ho potuto mangiare dove erano avevo una trasferta però mi sono fatto portare dal meglio forno di genova e sono tanti e guarda che cos'è sulla cuccia del gatto sapete che il mio gatto adesso ha uno chalet tutto bello che si può anche aprire nel tetto uno chalet meraviglioso insomma sopra il tetto c'era un pacchetto grande con due pezzi enormi di focaccia mamma mia com'era buona troppo buona e l'ho mi sono commossa che non me l'aspettavo e io intanto ieri allora ieri visto che ho preso per sbaglio il pollo e camilla non mangia carne poi le passerà sì quando verrà che arrivano le carenze oppure comunque non mangia carne allora cosa ho fatto già che ero a stegamare che ho fatto degli arostini imbottinati imbottiti e li ho fatti alcuni con le gambe rosse della bietola e i funghi porcini secchi che avevo mollato che mi ha mandato la mia amica manuella la mia amica di infanzia delle medie siamo amiche da allora insomma da 50 anni siamo amiche quasi e quindi gambe rosse poi maggiorana titillaglietto buono la cipolla rossa di tropea che non la posso mangiare cruda ma cotta mamma mia che buona e vino bianco e acqua molto semplice pochissimo olio salvia o allora alcuni ho farciti con quelle con delle falde di fungo secco e le gambette scottate di delle bietole rosse che sono molto bisogna un po togliere i fili è perché qualcuno rimane un po un po antipatico e poi ho sbollentato le foglie le ho fatte saltare con la cipolla di tropea la maggiorana e ho fatto una frittata poi a parte ho ottenuto un po di bieta e cosa ho fatto ho fatto l'altra le altre gli altri arrostini le ho fatti proprio con dei pezzettini di con delle striscette di frittata ma anche la la bieta così a mucchietti mamma mia senza formaggio senza formaggio e tutti questi aromi tanto vi c'erò un profumo per casa che ho fatto una padellata che è bella grande la bella padella antiaderente con gli arrostini con i funghi una tatatata per ultimo nella stessa padella non si è bruciato niente c'era c'era olio quindi c'era più acqua e vino ma la cottura sana bisogna prima fare un po rostire se no sembra carne lessa ma sono venuti di un buono ho fatto poi gli arrostini di pollo e li ho ritagliati tra l'altro l'ho resi tutti belli regolari e ci ho fatto tipo uno sfila sfilacci ma ecco tipo piccolo piccolo minuto spezzatino condito tutto insieme glielo fatti ai miei vicini con i funghi e una falda un po grande di fungo l'ho tagliuzzata a forbice e lo sparpagliata nella padella così spezzatino questi arrostini due per uno glielo fatti e così mi sono ringraziata con il vicino che mi ha portato la focaccia con l'altro vicino che mi fa sempre il favore ma mi mancherà tanto se vai via te vado via anch'io perché si sta sistemando una casa di famiglia in un altro posto a vetralla che non è proprio quel vicino e quindi insomma una persona molto discreta questo mio vicino però tutte le volte che ho bisogno devo dire anzi si presta da sé proprio caruccio e mannaggia e quindi poi cosa ho fatto la frittata due padellate di arrostini per me una padellata di arrostini con spezzatino per i vicini poi ho fatto proprio uno spezzatino di tacchino perché anche le mie falde un grosso effettore per fare gli arrosti le ho un po' ritagliate e ho fatto un abbondante spezzatino con tantissime carote tagliate a dadini da me tatatata per bene e piselli e cipolla di tropea e salvia ma che buoni cos'altro cucinato ieri che non mi ricordo ovviamente ho quindi anche un po stanchina ieri devo dire si era proprio stanca però ho finito di cucinare poco prima allora l'ultimo tegame lo spezzatino alle cinque arrivato mio padrone in casa cinque meno quarto e io ho iniziato a sentire l'angurino ho fatto un caffè poi vabbè ho detto senta alle sei e venti io ho fame io io cenno alle diciotto se non le se vogliene offro no ma io stasera la cena di anniversario 32 anni va bene allora io cenno le faccio compagnia qua fuori due ore e io cenno ecco è arrivato l'idraulico così tardi per venti quarto d'ora venti minuti con tutti i convenevoli del caso qui in quarto d'ora è uscito ho cambiato l'ennesimo tubo che era da cambiare 30 40 centimetri di tubo è fatto adesso aspettiamo solo il muratore io moro perché non ci vado d'accordo proprio no ve lo devo proprio dire perché è proprio sbadato impreciso un po incapace secondo me e mi mette i piedi dentro al bidet come se fosse uno sgabello io non lo posso sì è vero che il bagno lo devo pulire ma per piacere casa mia via di libestegna come un trucco quindi ho fatto ho dato a un certo punto aperto la porta mentre frullava le mattonelle io che non avevo sigillato che mi ha dato manco il tempo perché se me sa fanno la cosa che non era in preventivo mi dico date una carmata se non sei capace te lo faccio io sigillo col nastro di carta sono mica deficiente lo so fare niente allora per una parte sapete io ero al piano di sotto con le porte chiuse a un certo punto non ho visto più niente nella sala ma veramente e mi sono trovato tutti i capelli a parte gli sternuti tutti i capelli sporchi tutti gli sassi ma sono volata su guardate ho fatto chiaro è una follia e come si fa a fare lavori senza ragionare io non ho più palida idea come si faccia non usare la testa proprio a non usare la testa comunque mi sono sfogata anche un po' con voi però sentite con toni calmi perché ho mai già urlato abbastanza perché io ho tutti i filati lo sapete è vero che ho tutti i filati con tutto il testa è il fatto di fonte al bagno per fortuna i muri sono spessi ma sotto in alto e la idrati le porte si girano abbastanza bene una chiusura un po' antica ma sotto alle porte ci passa quasi un dito è la polvere sottile delle delle mattonelle fresate passa ovunque mi continuo a cadere addosso sono appanicata ve lo posso dirvi non mi sono messa a piangere ma erano lì ma ma più per la rabbia ma veramente ho aperto un quadro sapete che non è stato zitto è stato zittissimo non ha più sblaterato anche perché poi faceva sapete i commenti da maschi idioti quei commenti lì non glielo permetto è casa mia fuori può dire quello che è bello se non la sento io se la dovesse sentire che parla di me povero lei ma in casa mia ci si rispetta le persone la casa le cose tutto e ci si comporta a modo ma ma bella sapete che ha alzato la voce come fanno i maschiacci cattivi no stava a tre scalini più su e bello io se voglio mi alzo di mi alzo di dieci metri anche senza il fungo di alice a bello no la cosa che non sopporto è la mancanza di rispetto e di riguardo per tutto la mancanza di rispetto anche no il silenzio uno deve fare un lavoro invece di fare le cavolate che fra un po ci rimane fulminato guardate un lavoro che manco i bambini dico manco i bambini sono così sbadati che meraviglia adesso c'ho silenzio per tutto il giorno sono felice solo che fino a lunedì mi aspetta perché io domani un impegno domani lezione a viterbo visto che casa mia è un disastro e non possiamo utilizzare in sicurezza il bagno perché ci posso stare anche attenta però non è il caso c'è una polvere in giro che ui ma è me allora visto che devo andare a ritirare un libro che mi è arrivato poi vi farò vedere perché è bellissimo lo so ecco lezione con la mia allieva di tessitura in viterbo a viterbo lezione in un bar che ho iniziato a frequentare perché ha un passo dalla libreria e da una una delle fermate dell'autobus che mi sono comode ovviamente non le fermate dell'autobus che non mi sono comode e quindi ci sono dei portici il bar è fornitissimo mi fanno un cappuccino montato dove già la seconda volta terza volta me lo fanno buono senza che debba fanno proprio cappuccino cappuccino vuole la crema poi c'è tutta una signora sul web che dice sapete quelle che parlano solo di bonton e di io la crema del cappuccino la prendo con cucchiaino e me la mangio non capisco questa cosa che non si fa si fa e come se voi chiedete un brodo ve lo bevete il brodo la crema del cappuccino è parte della pietanza del cibo ed è fondamentale riguarda proprio quel tipo di preparazione lasciarla lì per bere solo la parte liquida vuol dire hai sbagliato alla richiesta e scegliti un latte macchiato se devi lasciare la cremina ma io quello che adoro poi quando arriva in fondo che rimane un po di sedimento dolce perché mano dolcifico o e quindi a me queste cose il bot deve allora il bontone deve in qualche modo ricordarci come vivere senza infastidire anche alcune alcune sensibilità perché altre non ci possono riguardare alcune alcune sensibilità quindi a sentire in girati di là se non ti piace il mio colore se tu porti i capelli coperti io no o io si e te no io porto il capello tu no io porto i guanti e te no tu porti i guanti e io no sapete queste cose qua è pazienza ecco ma certe cose nel comportamento a tavola riguardo ai cibi ecco deve essere razionale cioè se lo usi così quello quella cosa non so può essere un cucchiaio una posata piuttosto che cosa rischi di sporcare dove stai mangiando di sporcare i tuoi vicini o di sporcare la tua persona vabbè deve essere razionale non deve essere cioè se non ha senso non ha senso io la crema del mio cappuccino con garbo e gusto me la fregnisco fino a pulisco proprio anche l'interno della tazza perché tutta quella cremina che riccia 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 va nel cucchiaino me la mangio ma scusate ma quando si sceglie un gelato una coppa gelato spieghiamo facciamo capire a queste esagerazioni di buon tono ecco quando prendiamo la coppa gelato non è cosa saggia lasciare degli avanzi no cioè non è che c'è fino qui è gelato poi non è gelato è gelato è gelato e anche se diventa un po cremosetto ecco si mangia no il gelato quello che aderisce alle palle gelato si mangia e io il mio cappuccino me lo mangio me lo gusto tutto poi quella del cornetto che è brutto metterlo direttamente portarlo alle labbra e mangiarlo invece è quello di usare le mani tu vai anche se te le sei lavate in bagno tu prendi un cibo che si appiccica no non puoi usare i tovagliolini perché se tu li fai aderire dai lati i tovagliolini e spezzi il pane che è un gesto sacro comunque e poi non si puccia adesso anche lì porca miseria io appuccio tutto guardate che noi liguria appucciamo le strisce di focaccia ma se è bello l'incontro tra quel cibo e quell'altro ma chi ha come quando si prendono i bocconcini poi si intingono nelle salse e si mangiano che differenza ci deve essere tra un bocconcino che non vi va da tutte le parti che non vi sbrodola tutto addosso no e poi ve lo mangiate che differenza c'è è cibo si fa in maniera composta ma quando si va nei ristoranti esotici che portano tutte quelle ciotoline dove sono tutti i bocconcini da pucciar di qua e di là è così se deve da fare non è che c'è buona parte del gusto ecco ci sono dei riti che sono personali e quindi invece mi sembra proprio prendi con le dita spezzi il cornetto e te lo devi mangiare a pezzi a bocconcini con le mani ma che maniera è tu con le mani poi te le vai a poi ma che schifo scusate anche no perché comunque magari volontariamente ti sarei toccato da qualche prima del toccato no io allora o lo mangio a mozzichi e basta lo mangio a mozzichi io lo puccio soprattutto la prima parte del cappuccino quella bella biscottata la parte cornuta non so come dire tuffiti non mi riempio la bocca grossa così non mi sto a colare tutto addosso va fatto bene ovviamente mi devo mettere l'imbarazzo che mi sporco quanto sono ma io me lo faccio me lo concedo è un mio piacere che non mi guardare se ti dà fastidio ma scusami un po' e io lo faccio poi tutto il resto no me lo mangio così poi si sbriciola talmente tanto certi cornetti belli biscottati ma lorenza ma tu gluten free si ci sono anche senza glutine i cornetti anche se in realtà quello che ho mangiato l'altro giorno però poi smaltiscono sono brava sono stata bravissima sono lì già al dovere ecco sono passati 24 minuti non ho parlato di questo quindi come lo intitoliamo sto vocale adesso così cambia un po' la scenografia vengo a parlare di questo argomento tanto c'è di là la minu che zompa che raspa a fame allora vado a dare il cibo alla minu poi torno a chiacchierarvi di queste cose qua panni e lini ciao